Bella a tutti frienze e benvenuti in un nuovo video, ci troviamo su Fortnite, uscita una nuova sfida a 4x, la numero 67 che ci richiede accessibile volando con il deltaplano vendicatore attraverso gli anelli sotto la piattaforma aerea più a sud, perfetto Andiamo a selezionare il deltaplano vendicatore che sicuramente lo andiamo a sbloccare all'interno del pass battaglia, esattamente al numero 79 Ecco qui il deltaplano, perciò andiamo all'interno del nostro armadietto, lo selezioniamo come deltaplano predefinito e siamo pronti per buttarci in game in una di queste qualsiasi modalità, eccetto la creativa e parco giochi Io voglio start in modalità singolo e vi faccio vedere subito questo nuovo 4byte Mi sono appena buttato dal basso della battaglia, intanto vi ricordo che se vi interessano i video dei 4byte mi raccomando iscrivetevi a questo canale e attivate la campanella delle notifiche perché quotidianamente li porterò sopra questo canale Io penso che dal momento che sto facendo questo video il 4byte sia bugato perché è già la seconda volta che mi butto, la piattaforma più a sud è questa qui, sopra l'andletale Io ho messo il deltaplano, dovrebbe essere questo, però non ci da niente di niente, non mi da degli anelli che dovevamo attraversarli per poi prendere il 4byte Non lo da nemmeno a questi ragazzi perché anche questo come me sta cercando qui ma non trova nulla O forse è bugato solo a me Comunque regà, il 4byte lo dovreste trovare qui, dovete andare sotto questa piattaforma a seguire tutti gli anelli che ora io non vedo e prendere e sbloccare il 4byte La posizione esatta è questa qui del drone che vola per aria, perciò mi raccomando vedete magari anche da voi è bugato, comunque la posizione esatta al 100% è questa qui Spero comunque il video vi sia piaciuto, vi sia stato utile, mi raccomando lasciate un bel mi piace e condividetelo con tutti i vostri amici E noi ci vediamo in un altro nuovo video più tardi E le belle, mesami E noi ci vediamo in un altro video più tardi